C'è un giudizio positivo sul decreto sulla governance che era stato oggetto di una serie di approfondimenti e la posizione della conferenza delle regioni è stata accolta e abbiamo potuto constatare con grande convinzione, quindi le regioni svolgeranno anche nel Recovery Fund quel ruolo di programmazione e di coordinamento che la Costituzione prevede in connessione tra il governo e con i comuni e quindi questo insieme attraverso il quale lo Stato si presenta a questa sfida importante ci ha tranquillizzato e credo sia la garanzia anche per coordinare tutti gli investimenti che sono in corso sul territorio e che sono quasi totalmente di competenza delle regioni che devono essere coordinati con il Recovery Fund perché il Recovery Fund è una cosa che è arrivata in più e adesso c'è in corso tantissimo e le cose non possono andare in contraddizione, questo decreto era sacrosanto, abbiamo potuto constatare che il Presidente del Consiglio è anche lui molto soddisfatto di quel decreto che probabilmente verrà anche aggiustato un po' in Parlamento ma su questioni di dettaglio, non su questioni centrali. La cosa più importante è che la conferenza delle regioni lavora in grande cordialità, all'unanimità, questo lo dico perché ogni volta che mi incontrano con un esponente della Lega, almeno nel mio territorio, sembra che io faccia chissà quale strana operazione, io in realtà e Massimiliano lavoriamo insieme e quindi lo dico per la mia parte politica, c'è un equilibrio interno alla conferenza delle regioni che ci tranquillizza e ci rende orgogliosi di far parte di questo organismo. Con la Puglia ti vaccina la regione programma il calendario delle vaccinazioni anti-covid secondo fasce d'età a partire dai 79 anni in giù. Non hai più bisogno di prenotare, per il tuo vaccino la data e il luogo vengono fissati in base all'anno di nascita. Per confermare l'appuntamento devi solo aderire alla vaccinazione. Come? È facile, ti serviranno solo codice fiscale e tessera sanitaria. Collegati alla nuova piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it. Se la tua fascia di età è già attiva, clicca su accedi al servizio online e segui le istruzioni. Conoscerai così la data e il luogo del tuo appuntamento. Se puoi, stampa il promemoria e il modulo per il consenso informato e portali con te il giorno della vaccinazione. Puoi aderire alla campagna vaccinale anche chiamando il numero verde 871 39 31 o rivolgendoti a una delle farmacie accreditate al servizio Pharmacup. Il giorno della vaccinazione porta con te la tua tessera sanitaria e, se puoi, il promemoria stampato e il consenso informato già compilato. Il vaccino, la miglior difesa è la scienza. Grazie. Grazie.